Come state? Che bello rivedervi. Dai un po' mi siete mancati, sono passate ormai tre settimane da Atalanta a Milan, dove abbiamo conquistato la qualificazione Champions League se ti vuole, però oggi siamo qua per tutta un'altra storia, siamo qua per tifare diciamo tutti un'unica squadra. Allora, discorso molto commovente da parte mia e oggi si torna a giocare a Roma ragazzi, è dal 1990 che non si disputavano a partite tra mondiali o europei nella nostra nazione, per essere più precisi allo stadio olimpico, nella città eterna chiamata Roma che è anche la città che tra poche settimane mi ospiterà perché mi sto trasferendo proprio lì quindi ragazzi, se qualcuno di voi è di Roma ci sarà la possibilità magari anche di fare qualche evento sempre se volete. C'è chi la guarda sulla Rai ma c'è chi la guarda su Sky come me perché non può fare a meno di Caressa e Bergomi. Perché non hai la maglia dell'Italia ragazzi? Perché io tra tutte le maglie che ho nel mio armadio, ne avete viste veramente tantissime per chi mi segue anche da più tempo, ma non ho una maglia dell'Italia ragazzi, non ne ho neanche una, ne ho una falsa tipo di gattuso del mondiale 2010, una cosa, no, degli europei 2008. E stasera ragazzi è caldo e dato che c'è l'inno d'Italia, anzi no, mi sembra c'è l'inno, cazzo non ne so di che inno è, ne approfitto per sponsorizzarvi le maglie Gesub, guardatele bene. E' il primo prodotto che metto in vendita del mio merchandising, se così possiamo chiamarlo, per info DM su Instagram oppure contattatemi per mail, si potrà discutere di ciò. E la cosa bellissima ragazzi è che è tornato il pubblico, seppur ovviamente in maniera assai ridotta, però è tornato il pubblico, questa è una cosa importantissima. La coreografia è bellissima ragazzi, abitassi già a Roma, ci avrei fatto anche un pensierino per andarla a vedere. Oh, bocelli ora. Nessun dorma. Tra l'altro ragazzi, da Toscano, vedere l'Olimpico di Roma, costruito in un foro italico dove prevalentemente primeggia il marmo di Carrara. Sentire una composizione di un lucchese come Puccini, ovvero Nessun dorma, cantata da un pisano, che è bocelli, il toscaniometro sta impazzendo ragazzi. Andrata su una patata fritta. Possibile intervento al ginocchio per Ibrahimovic ragazzi, è un calvario che non finisce più però. Eh sì, c'è Martingarix, oddio, vedere Martingarix con una strato caster. È come vedere la Rai con la comicità, più o meno siamo lì, però va bene. Ma che asciugarsi è là, che è il momento di bestemmiare, cari, sai che tanto qua l'inculato è dietro l'angolo. Ma che asciugarsi è là, fimeu. Qua inizieremo a tirare bestemmioni su 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 bestemmioni. Gli azici bastardo. Bittardo. C'ha la nooglu. C'ha la nooglu. Vabbè io ad Atalanta a Milan dissi, c'ha la nooglu via. Oggi vi dico, c'ha la nooglu via ragazzi. La Turchia con... Ugursan in porta. Difesa con... Col budello di Tumà. Con la tua madre troia. Pubblicità durante le formazioni. Allora Turchia con il 4-5-1. Ugursan, Sakir in porta. Zitto, caressa. Selik, tezzino destro. Demiral, grande conoscenza. E Sojonku centrali. Oh, e Umut a sinistra. Poi, ok, ok come centrocampista. E 4 davanti. C'ha la nooglu via zici. Tufane, Karaman e Burak il mazzo davanti. Non si capisce un cazzo. Donnarumma. In porta. Florenzi, tezzino destro. Bonucci, Chiellini, difesa Spinazzola a sinistra. 4-3-3. Barella, Jorginho e Locatelli da destra a sinistra. Davanti, Berardi, Immobile e Lorenzo Insigne. C'ha la macchinina che consegna il pallone. Fantastico. Batterà la scuola di casa che è la Turchia. Cioè, fantastico. La scuola di casa è la Turchia. Permessa laterale dopo il tocco di testa di Karaman per l'Italia. Chiellini verso... Donnarumma. Non lo chiamo più Gigio ragazzi. Donnarumma. Donnarumma. Anzi, lo chiameremo il Pagliaccio. Quindi, da qui in poi, per chi seguirà le live e i recap su YouTube, Donnarumma sarà il Pagliaccio. Ok. Florenzi lungo verso Berardi, che non la tiene in campo. Invece sì, invece no. Ciro. Sfira il palo. Palla che esce di così alla sinistra del portiere. Io sostengo personalmente che contro la Turchia ce la possiamo tranquillamente giocare. Poi magari mi sbaglio, però... L'Italia non ha niente da invidiare alla Turchia. La seconda maglia dell'Italia, c'è una bandierina qua. Rosso, bianco, ecco, la maglia è verde. Ce l'ha già avuta il Milan una maglia così. E adesso ve la faccio vedere. Fu la maglia del post scudetto. Che era esattamente questa. E aveva appunto la stessa... Lo stesso layout, ovvero... La bandierina qua. Vabbè, piccolo dettaglio, però... Molto, molto carino. Comunque sì, eh... La Turchia sta giocando, non so, penso che sta giocando a rugby. Perché va avanti a pale lunghe, su 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 pale lunghe. Ci capisco un cazzo. Mobile per Berardi. Esce il portiere. Il mazzo va dentro, il cross verso nessuno. Arriva Ciananoglu, che commette fallo su Barella. Buono, Barella, Barella. Guarda in signe, Barella. Guarda in signe, no? La dà Berardi. Va col sinistro. Deviato. Esce il portiere. Uh, bella. Perde palla Selic. Florenzi non fa partire il contropiede. Flore. Oh. Spinazzola. Spinazzola, Spinazzola, Spinazzola. Va via Spinazzola, va il cross. Con la mano. Berardi dentro. In signe. No, perché non hai tirato la botta di collo? E ha voluto fare il suo solito tiro a giro in signe, ragazzi. Berardi. Buono per Barella. Cermese laterale. Poteva anche se ci fallo, eh. Pagliaccio De Bonucci. Da fuori. Esce di tre metri. Cazzo, te li da 35 metri. Bonucci. Infatti, immobile fa. Perché non la dai qui? Comunque, immobile, immobile. Che tripling. Ciro. Questa. Questa è mano. Questa è manissima, ragazzi. Braccio largo così. Fermata l'attore del pallone. Va a Berardi da lungo. Chiamalo Scamanzigne. Se ne va Berardi. Quindi batterà in signe. A uscire. Insigne. Verso Chiellini. Cosa ha preso il portiere? Giorgio, cosa stava per fare? Cosa ha preso il portiere, ragazzi? Chiellini, indisturbato. Indisturbato in mezzo all'area. Poi dentro verso Locatelli. Lì, Chiellini, tacco. Poi è andato fuorigioco. Era go. La panchina era già schizzata in piedi, ragazzi. Perché di solito Chiellini questi gol qua non li sbaglia. Ma non l'avrebbe sbagliato neanche adesso. E il portiere ha fatto, penso, l'apparata della vita. L'apparata della vita ha fatto. Ma non è che ha parato poi tanto culo da... Da dopo la prima volta che è venuta fuori, eh. Seven National Army dei White Stripes. Spinazzola cosa... Cazzo di rimesa tale ha battuto verso... Vietamente il mazzo. Barella. 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 Larga per Berardi. No, Barella. Che cazzo fai? Allora, dà la palla a Berardi. Soyuncu gli ha ridà. Ovviamente, fortunosamente, corre in ballo. Barella. Ritenta di ridarla a Berardi. E Soyuncu gli ha scippa stavolta. C'è Spinazzola di Trenzini. Benissimo. Spinazzola, Spinazzola, Spinazzola. Cerca Immobile. No. Scarica la prima, ragazzi. Ci pare di vedere il Milan. Troppi errori. Troppi, troppi, troppi errori. Uh, l'ha visto Berardi. Ben servito. Va il cross verso Immobile. Di testa! Fuori di nulla. Gli azici lungo verso il mazzo. C'è che linea protezione. Va il mazzo, il mazzo, il mazzo. Siamo venuti vedere l'area. Va dentro! Pagliaccio para! E allora Insigne. Per Locatelli, via. Eh, Immobile ha scaldato troppo in anticipo. Però comunque c'è Chiellini. Non tirare, Chiellini. Insigne. C'ha spazio! Centrale! C'è il gol alla Insigne, ma centrale, ragazzi. Sì, ma ha fatto tipo 4-5 rinvii per te da Turchia. Tutti rimessi laterale o alla difesa dell'Italia. Cioè. Ma sti qua si allenano con gli ologrammi. O che cazzo ne so? Avremo il 70% di possesso palla. Minimo. 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 Facciamogli un gol che così si aprono, per favore. Spinazzola. Sti qua sono venuti qua per pareggiare. Ho capito. Baleala. Tra un butto a sorella. Allora Insigne. Dentro. Immobile. Immobile. Centrale. Il Mazz con il tasso da Chiellini. Non c'è. Non c'è nulla, dai. Cioè, perché allora se dai questo rigore alla Turchia, ne devi dare 550 all'Italia. Uh, salta bene il difensore. Qua. Qua c'è una mano clamorosissima. Insigne. Prova il giro. Qui, qui, no ragazzi. No, vabbè, vabbè, vabbè. Ma allora devono spararci per avere un rigore qua. C'è che del VAR, ragazzi. C'è. Porca puttana. Ragazzi, braccio larghissimo. Questo è il rigore. Questo lo dai, questo lo dai, questo lo dai. Questo lo dai. No. Ma sta diventando una barzelletta sta partita. Volete vedere che è la prima volta che un giocatore loro cade in area? Danno rigore. Io ci scommetto quello che cazzo volete. Fino il primo tempo, andatemi a fare in culo. Andatemi a fare in culo, guarda. La barzelletta, signori miei, continua. Fuori Azici, dentro un DER. Beh, è un cambio che secondo me toglie qualità alla Turchia. State a vedere, state a vedere. Anche noi insomma mettiamo Di Lorenzo per Florenzi. Di Lorenzo secondo me ha fatto una stagione molto superiore rispetto a quella di Florenzi. Batte l'Italia con Ciruzzo, immobile per Giorginio. No, Giorginio cosa? Che pala ha perso. Un DER contro Spinazzola. UNDER va via. Sinistro. DEVIA. DEVIA. Spinazzola. Para il pagliaccio. Locatelli. Barella. Barella per Berardi. Ne siamo in area. Berardi, Berardi, Berardi. Berardi dentro. Autogol. 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 Di Demiral. Autogol di un coppo. Autogol di un coppo. Andiamo. Autogol di un coppo. Autogol di un coppo. Godo. Godo. Autogol di un coppo. Godo. Pala di Berardi La mette dentro Il gobo di De Miral Ops E vabbè ragazzi Dopo 590 rigori che non c'è andato Sorry man E andiamo Adesso voglio vedere se la Turchia si mette A difendere a 95 Dietro la palla Spinazzola Spinazzola Rimontato Spinazzola Con sinistro Para Seric Immobile di rovesciata Pala fuori Adesso sti bastardi si alzano Si alzano sti bastardi Buono Spinazzola Ragazzi un der mi sta sorprendendo C'è sostanzialmente Italia contro un der Insigne lungo per Ciro Lungo per Ciro Seric Bellissimo l'errore qua Ciro ragiona Per Insigne No ho aspettato troppo Calcio d'angolo Locatelli Locatelli Dai 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 ragiona Locatelli Da fuori Seric In calcio d'angolo Ragazzi è un assedio Ragazzi è un assedio Ragazzi è un assedio È un assedio Dove essere Già 4 a 0 Questa partita qua Dio Renzo Di ruba la palla Bravissimo Bravissimo Napoletano Palla dentro Mette fuori De Miral Però verso Berardi Sinistro Malissimo Malissimo Si ha rabbia e mobile E ha ragione E ha ragione Ci deve Essere un Un po' più di comunicazione Tra Berardi e mobile Però ragazzi Ah fuori Tufan Dentro Ayan Del Sassuolo Un altro della Serie A Poteva farla meglio Però comunque Insigne Bello lo scavetto per Barella Barella da fuori Tenta Ha giocato Berardi Va dentro Cambiatuto per Spinazzola A ritardo Destro Che parate Poi Ciro Immobile 2 a 0 Ciro Ciro L'ho tanto bestemmiato Quando ci ha fatto Il 3 a 0 In campionato Ma oggi Siamo tutti Un colore Ciro Figuratevi Se un giocatore Da 30 gol In campionato Non fa un gol così Ciro 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 Annichiliti proprio Annichiliti Ma Sodomizzati Trombatti a pecorina E andiamo E andiamo Ragazzi Il calcio è strano Ma A vedere Da come Stanno giocando Le squadre In campo Questa partita Possiamo dire Che è vinta Perché la Turchia Non ha Fatto un cazzo Tutta la partita Enterà Belotti Per immobile Ok abbiamo Finito di fare gol Ok abbiamo Finito di fare gol Bello Barella 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 Ragazzi Saltacela Noglu Salta Tutti Vabbè Poi Si allunga la palla Ha fatto il che si Della situazione Cristante Per Locatelli E ragazzi Mi ero completamente Dimenticato Che Cristante L'avesse convocato Pa dentro Verso Caraman Para Ok abbiamo Finito di fare gol Il pagliaccio Cioè Sti qua sono in campo Con giocatori del Brentford Che cazzo Giorginio qua Veramente Si sta facendo ripagare Pa dentro Verso Spinazzola 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 In area No Si perde Calcio d'angolo Mi sa Ma tira al volo Vabbè 2 a 0 Partita in ghiaccio Ma ci vado io arbitrare Berardi Non la sprechiamo Barella Immobile Dentro Insigne 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 Eccolo Eccolo Il 3 a 0 Lorenzo Il magnifico Game Set Match E andiamo Distrutti Distrutti Mangiatevi un kebab E tornatevene a casa Grazie Game Set Match Ragazzi Ma La Turchia Ma ci mandavate il crotone L'europeo giocava meglio Hanno difeso Fino a 1 a 0 In 11 E poi non hanno fatto un cazzo Se ne ha buttato il portiere Ma Un kebab Kesha Maionese No piccante Grazie Entrano Chiesa e Belotti Guarda qua i turchi Veramente Affranti Bernardeschi Per Berardi Ber Per Ber Berardeschi Prima volta L'europecchia Il primo gol E' nato il gol Bellissimo C'è la Noglu Per il Mazz Chiude Chiellini Porca Puttana Eterno 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 Va un der Dentro Palla fuori Ragazzi Vado a fare il video Tanto 3 a 0 Mancano 40 secondi Va bene così ragazzi